Sondrio, questo è l'articolo 530 del codice di procedura penale, fa soldi, domenico, spellecchia, l'operato glielo ha scritto perché il codice non sussiste, iniquida del patrocinio a fine dello Stato di valore delle patricine costituite, onorario di euro 4.286 o 3 euro 657,90 per spese generali, l'accessore di legge all'avvocato Giordano Carelli, l'avvocato Sardino Fagessi, l'avvocato Luca Marchioni, l'euro 5701,80 per l'euro 255,27, spese generali, l'accessore di legge all'avvocato Caterina Sterrocchi. Visto l'articolo 544 del codice di procedura penale, fissa termine di giorni tra penate per il deposito della sentenza. Grazie.